nell'italia c'è mancini ma ci sono anche vialli evani lombardo salsano hanno giocato tutti nella stessa squadra la sampdoria stanno insieme da più di 30 anni hanno ormai lo stesso senso della vita di cosa li faccia divertire li commuova non so quanto questa diversa storia del gruppo aiuterà a vincere ma è un modo di gestire l'italia che non c'è mai stato fino agli anni 90 i commissari tecnici crescevano dentro la federazione non erano presi dal campionato al careggi aveva bearzot come vice e vicini come terzo quando li subentrò bearzot vicini divenne il suo vice e così via li ho conosciuti bene era gente molto brava ma in concorrenza non so quanto riuscissero ad essere anche amici cambiò tutto con sacchi quando si cominciò a scegliere i tecnici dal campionato grandi allenatori trapattoni lippi che portavano con sé i loro assistenti ma non propriamente amici o compagni di squadra mancini ha fatto una scelta tecnica che è stata molto personale quindi pericolosa ma l'ha fatta rispondendo alla stessa convinzione di 30 anni fa che in fondo a quel gruppo dovesse esserci un grande destino o niente e lui fin da allora aveva scelto il tutto 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 Grazie.